Google Apps for Business è una suite di prodotti dinamici e integrati, ideale per i team di lavoro e progettata per il web. Utilizzando un insieme completo di strumenti che comprende Gmail for Business, Google Calendar, Google Docs e Google Sites, oltre a tante altre applicazioni, questa suite migliorerà notevolmente la collaborazione aziendale. Inoltre, gli utenti utilizzeranno le applicazioni nello stesso modo su qualsiasi dispositivo e su qualsiasi piattaforma, aumentando la loro produttività ovunque si trovino. Google Apps sfrutta a pieno il potenziale di Gmail per aiutare gli utenti aziendali a essere produttivi ovunque e in qualsiasi momento. Con 25 GB di spazio per utente, Gmail for Business consente agli utenti di mantenere volume elevati di posta elettronica, mentre funzionalità innovative come la Priority Inbox semplificano la gestione e le ricerche oltre a migliorare l'efficienza. Per ciò che riguarda i messaggi email, Google Apps offre varie funzionalità, come ad esempio uno strumento di traduzione in tempo reale che facilita la collaborazione e ottimizza le comunicazioni. Gli utenti possono aprire foglie elettronici e documenti allegati direttamente nel browser senza dover installare alcun software. L'allegato è convertito immediatamente in un foglio elettronico Google per consentire agli utenti di modificarlo online e invitare altri a fornire dati o commenti. Poiché Google Docs opera sul web, è facile creare e integrare grafici interattivi, immagini animate e tanto altro ancora. La funzionalità di editing in tempo reale di Google Apps consente a qualsiasi numero di colleghi di condividere, eseguire backup e simultaneamente modificare testi, fogli elettronici e presentazioni direttamente dal browser. Per i collaboratori all'interno e all'esterno dell'organizzazione sono previsti rigorosi livelli di accesso e permessi personalizzabili per garantire che le informazioni sensibili siano protette e al sicuro. Il controllo delle versioni non rappresenta più un problema e non dipende dal numero di modifiche o da chi le effettua, poiché tutti i membri del team possiedono sempre la versione più recente. Quando un progetto richiede una stretta comunicazione tra clienti, partner, dipendenti o colleghi, Google Apps consente al team di collaborare senza problemi. Poiché i messaggi e-mail, le chat, le comunicazioni vocali e le videochiamate sono centralizzate, potrete vedere sempre quali sono i membri del team disponibili per una conversazione, invitandoli velocemente a collaborare ad uno stesso documento in tempo reale. Quando è necessario un contatto più personale, le videochiamate integrate di Google Apps vi aiutano a contattare altri membri del team in tempo reale per una conversazione faccia a faccia. Per condividere facilmente le informazioni con tutto il team, Google Sites rappresenta un modo semplice per creare pagine web da condividere internamente o esternamente. La creazione di un sito è molto semplice. Bastano tre clic e il vostro sito è online. Potete persino creare pagine in cui conservare la documentazione di un progetto, siano esse in Google Docs o in qualsiasi altro formato. Una soluzione completa per tutte le vostre informazioni, senza alcuna necessità di scrivere codice o avere competenze HTML. In base ai ruoli e ai permessi dei singoli utenti, i membri autorizzati del team possono modificare i contenuti sul sito intranet. La creazione di un nuovo post sulla intranet aziendale è semplicissima. La semplice interfaccia di Google Sites vi guida attraverso l'intero processo e una volta salvato il vostro post, questo viene pubblicato istantaneamente sul sito, insieme a qualsiasi documento che avete aggiunto. Con Google Apps cambierete radicalmente il modo in cui la vostra azienda collabora, aumentando allo stesso tempo la sicurezza e riducendo i costi dell'IT. Google Apps offre tutti i benefici della tecnologia cloud, senza altri componenti software o complicati aggiornamenti. Fate un passo avanti, lasciate che sia il web a lavorare con voi. La collaborazione semplice e intuitiva, grazie a Gmail, Google Calendar, Google Docs e Google Sites, vi consente di svolgere le vostre attività aziendali da qualsiasi dispositivo o in qualsiasi luogo. Per saperne di più su Google Apps, contattateci subito. Grazie a tutti.